Bentornati dunque con la seconda parte per quanto riguarda questo TG Mattino dedicata ovviamente allo sport. Iniziamo dal Corriere dell'Umbria con la Ternana Fere, ottimismo Favasuri. Il giovane ex Ferentina pensa positivo, nessuno ci ha messo sotto, ne verremo fuori. Il centrocampista posso giocare e in più ruoli anche terzine trequattista sogno un gol al Liberati. Petrara è il nazionale under 23 per quanto riguarda la serie B femminile, mentre Stroppa è il tecnico della Cremonese. E qua una doppia pagina per quanto riguarda la partita di ieri seri del Perugia. Grifo imbrigliato, ci pensa Mattos. Un bel destro del brasiliano, acciuffa l'ottantesimo, un buon poste d'era passato in vantaggio grazie all'ex Nicastro. In decisione di Angelella sul gol ospite per la remonta, Baldini abbandona il 4-3-3 per il 4-2-3-1 dell'Orco di nuovo titolare. E qua appunto questa serie di fotografie. Il coordinamento organizza la trasferta al Neri per quanto riguarda il notiziario, mentre Gubbio contro la Lucchese è un pari senza emozioni. Per quanto riguarda invece il Perugia, noi ieri sera abbiamo sentito il mister proprio dei bianco-rossi Baldini. Ecco che cosa ha detto ai nostri microfoni. Giocare contro una squadra che ti marca uomo, dove nella loro squadra non esistono moduli, ma vanno semplicemente a caccia, tra virgolette, dell'uomo, non è semplice. Anche per noi allenatori trovare le contromosse è complicatissimo. È complicatissimo, le trovi nel momento in cui devi avere un po' di pazienza, che loro rallentano un attimo perché poi è naturale che è un calcio dispendioso. C'era già successo, se voi ricordate, nell'Amichevole di Gubbio, dove il primo tempo, prima che andassero via i fari, ci sono venuti uomo contro uomo. Non è facile trovare le contromosse. Penso addirittura che i ragazzi siano stati bravi stasera, siano stati bravi. La cosa che mi preme è quella che ho una squadra e alleno una squadra che non vuol perdere. Non vuol perdere assolutamente. È dimostrato e penso che sia la cosa positiva. Il primo tempo, io lo sapevo, quando giochi contro queste squadre non puoi giocare bene, non puoi fare il tuo calcio perché è complicatissimo, è complicatissimo smarcarsi, è complicatissimo, devi lavorare sempre nei contromovimenti, devi lavorare sull'interscambio di ruoli, è complicatissimo. Poi dopo, se un giocatore vince un duello contro il suo avversario, rischia di andare in porta. Ma se ti ripartono prendi gol perché noi abbiamo preso gol su dell'orco che era andato via, il suo diretto avversario, si è trovato la libertà di spingere sulla fascia e quello ci ha... Ma come è giusto che sia? Doveva far quello perché aveva creato la superiorità numerica. Nel rientrare non eravamo sistemati e abbiamo preso gol. Quindi giocare contro questa squadra fa giocare male qualsiasi squadra. Oggi i tuoi colleghi mi dicevano che è stata una partita di Serie C. No, è stata una partita secondo me intelligente, nel primo tempo intelligente, molto intelligente. Sapevamo che loro alla distanza potevano allentare queste marcature e siamo venuti fuori. Poi possiamo ragionare che bisogna stare più concentrati sul non prendere gol perché poi, ripeto, ve l'ho già detto due o tre volte, noi il gol lo facciamo, noi il gol lo troviamo, noi il gol lo troviamo. Sono convinto, Canzi mi ha detto una bella cosa, mi ha detto se avessimo attaccato, se avessi attaccato il secondo tempo sotto la curva l'avremmo persa e ha ragione. Insomma, i ragazzi il secondo tempo sono stati bravi. Continuiamo dunque la lettura dei quotidiani passando al pallavolo russo. Allarme rientrato, il centrale della nazionale della SIR, ora sto bene, la distorsione è ormai alle spalle. Un atleta palermitano a Perugia, al Palabarto in Magliazzurra è stata un'emozione unica. Per quanto riguarda invece la serie A3 maschile, l'Herm Group passa 3-1 a Bologna in una seduta di allenamento. Prima categoria di calcio, Eterno Roscini, poker a 40 anni, la punta del San Nicolò Domenica ha segnato quattro reti. La prima volta torno giovane, l'ex Castello Rigone, Villa Biagio, Il Futuro, Le Api, Arimini, il gol più bello. Mentre Cagnone, a Sovi, Città di Castello, Lellera si rinforza con Consonni. Parla il team manager Biancorosso, in promozione di Bastia, tesserato invece il difensore Maceri. Seconda categoria, la Don Bosco Sprint, abbattuta la Taunanet, esordio positivo in Coppa. Memorial Staccini al Perugia, si parla di basket, il trofeo dedicato all'indimenticato allenatore è stato organizzato dal Bicifratta. Dux Sansepolcro, il capo finale, padrone di cassa di Umberti, dal quarto posto. Sul terzo gradino del podio è salita la Metauro Academy. Mentre per quanto riguarda il basket A2 femminile, Pfu ok contro la Stella Azzurra, adesso il torneo di La Spezia per mettere a punto il gioco. Per quanto riguarda invece il ciclismo, scalata tricolore con Bugno e Cappucci. Sabato a Foligno si pedala insieme a Campione, ci sarà anche Amadeo Tonelli. Grazie, Piediluco, si parla di canottaggio, il ternano campione del mondo, parla di sé e torna sull'impresa della vittoria iridata. La rivelazione appena tagliato il traguardo, ho pensato al lago di casa dove ho imparato a gareggiare in condizioni difficili come quelle di Belgrado. Intanto per il calcio a 5, Castetto Dino in campo nel ricordo di Mario Gubinelli. E si torna a parlare di calcio, di serie C sulle pagine della Nazione. Grifo ancora rimonta e solo pare il Curi, Mato Salvolo riprende il Ponte d'Era. Bozzanam pericoloso, Bene Mezzoni, Angelella bruciato sul vantaggio. Ternana, Tour de Force per risalire, ovviamente qui si parla di serie B, tre partite nell'arco di otto giorni. Si ricomincia sabato in casa con il Sud Tirolo, il presidente guida alla ripresa degli allenamenti al Taddei. C'è spazio anche per l'eccellenza con il Città di Castello giovedì al Bernicchi. Ci sarà la presentazione, mentre l'Angelana di Cotroneo non vuole più fermarsi. Foligno in crescita, reale e continuano a lavorare. Per quanto riguarda l'eccellenza, i bianchi e azzurri si godono la prima vittoria stagionale. Gubbio, altro pareggio, fermata la Lucchese. I Rosso-Bru non billano in trasferta, ma conquistano un punto importante. Mancano emozioni al gol, secondo 0-0 di fila per la squadra di Braia. Proprio sulla partita tra Gubbio e Lucchese è il tema del prossimo servizio. Quarta giornata e primo infrasettimanale stagionale nel girone BDC al Portelisa e Lucchese Gubbio. 4-2-3-1 per Gorgone con guadagni Rizzo-Pinne-Visconti dietro a Magnaghi. 3-4-3 ibrido per Braia che ripropone dal primo minuto Portanova-Morelli-Rosaia e in attacco si affida a Spina di Massimo-Montevago. Out Udo, prima chance al diciannovesimo. De Maria crossa da sinistra sul secondo palo. Guadagni di testa e indirizzo in porta, ma Chierico con il petto mette in corner. Prima chance e Gubbina al trentaduesimo quando Montevago riceve in area da Mercadante. Controlla e calci in acrobazia, ma Chiorra blocca senza patemi. Al trentasettesimo ci prova Gucker al volo da fuori area, pallone a lato. Finisce così la prima frazione e nella ripresa dopo pochi secondi Spina si mette in proprio e calcia dalla distanza, ma senza inquadrare la porta. Al quarantanovesimo punizione da destra di De Maria che pesca Gucker e Celso nella domestica della sfera per provare un colpo sotto sul palo lontano che termina direttamente sul fondo. Casolari rileva Chierico nel Gubbio, ma è guadagni a provarci dalla distanza. Vettorelle attento. Quindi Pirrello è tempestivo nell'anticipare Cangianello, subentrata Rizzopinna, dinanzi all'area piccola. Dentro Corsinelli e Bulevardi per Morelli e Spina nel Gubbio e poi anche Di Marco e Galeandro per Mercadante e Montevago. Ma la gara scivola via senza sussulti sino al triplice fischio finale. Secondo 0-0 consecutivo e terzo pareggi in quattro partite per un Gubbio che resta comunque imbattuto e sale a quota 6 in classifica dopo quattro turni. Sabato alle 20.45 i Rosso-Blu cercheranno di tornare alla vittoria al Barbetti nel quasi derby con la Vispesaro. E proseguiamo dunque il nostro appuntamento andando a dare un'occhiata alle pagine del messaggero per quanto riguarda lo sport. Il presidente guida le fere, il numero uno della società Rosso-Verde, spunta a sorpresa durante gli allenamenti per far sentire la sua vicinanza al gruppo, applausi stretti di mano da parte dei tifosi della Ternana che stavano seguendo la squadra Altaddei dopo il K.O. di Como. Intanto per quanto riguarda lo sport outdoor Monte Castrilli-Regina, un evento all'insegna del trailing, trekking e bici elettriche per attraversare i territori dei Borghi Verdi. Il ridatto Tonelli, premiato da Iconi, orgoglioso di rappresentare Terni. Per quanto riguarda invece la Serie C, Grifo col Ponte d'Era, un pari da battaglia. Primo tempo a senso unico, poi l'ex Enicastro sfrutta l'unico errore difensivo. Una protezza di Mattos per il pareggio serve carattere e grinta sottoporta. Nella parte bassa si torna a parlare del Gubbio che torna da Luc con un punto, manca ancora il salto di qualità. E con questa notizia noi chiudiamo l'appuntamento per quanto riguarda il TG Mattino. Vi ricordiamo che tutte le news in tempo reale le potrete trovare nel nostro sito internet all'indirizzo trgmedia.it. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti con l'informazione, vi aspettiamo questa sera a partire dalle 19.30. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata.